Buongiorno e buon inizio di settimana dal TG Flash. Proseguono ad imperia gli scioperi dei dipendenti dell'Agnesi, sempre più preoccupati per il loro futuro. Questa mattina si erano anche create due file di camion che non hanno potuto scaricare nello stabilimento a causa dell'astensione del lavoro da parte dei dipendenti. Sentiamo. Allora, oggi è l'ultimo sciopero che appartiene al pacchetto delle 56 ore stabilito nei giorni scorsi. Con oggi si sono fermati otto camion da questa parte e otto camion dall'altra parte che erano già partiti nei giorni scorsi, ma avendo proclamato lo sciopero di domenica il danno è stato superiore a quello dei giorni scorsi. Con questo sciopero si richiede all'azienda non solo di anticipare, e quello è già stato fissato perché dal 28 si è anticipato l'incontro al 23, ma si richiede all'azienda di venire il giorno dell'incontro con numeri decisi, definitivi per la ricollocazione del personale o comunque con una buona uscita accettabile per le persone che decideranno di abbandonare il posto di lavoro. Questa serie di scioperi, al di là dell'anticipazione della data del 28 che è spostata al 25, non è che sia molto rilevante. Non è stata anticipata di molto. Questo stato di agitazione vuole essere da sprono all'azienda di venire con dei dati concreti e mettere dei numeri sotto dei titoli che loro hanno annunciato. Prossimamente ci sarà un'assemblea dove decideremo se sarà il caso di mantenere lo stato di agitazione e di proseguire con questa serie di scioperi. La Croce Bianca Imperia sta con la Agnesi. Questo è il messaggio che la pubblica assistenza trasmetterà al pubblico attraverso adesivi che sono stati apposti sulle ambulanze. La decisione è stata presa all'unanimità dal Consiglio Direttivo che spera in questo modo di sensibilizzare la popolazione e dimostrare vicinanza ai lavoratori che non hanno certezze sul loro futuro. Nella giornata di ieri a Sanremo sul lungomare Italo Calvino, all'altezza del pennello vicino alla foce del torrente San Romolo, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo presumibilmente sessantenne. Il corpo è stato avvistato da alcuni passanti che hanno poi provveduto a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del commissariato, i carabinieri e la guardia costiera. Dai primi accertamenti medico-legali sembrerebbe che l'uomo sia deceduto per cause naturali. Sul suo corpo non sono infatti presenti segni di violenza. È stata comunque predisposta l'autopsia prevista per le prossime ore. La mancata costituzione di parte civile dell'amministrazione regionale nella vicenda delle spese pazze ha scatenato una nuova polemica. Il Partito Democratico ricorda come l'ex Giunta Burlando aveva agito diversamente, mentre il Movimento 5 Stelle parla di vecchia politica. Il servizio. Non tende a placarsi in Regione Liguria la nuova polemica legata alla famosa inchiesta sulle spese pazze, a scatenare le nuove tensioni e la questione della costituzione di parte civile nel processo. Passaggio già annunciato dall'ex amministrazione regionale guidata dall'allora presidente Claudio Burlando, ma che vede quella attuale con il governatore Giovanni Totti di diverso avviso. Il gruppo delle PD in Regione Liguria conferma sulla vicenda delle cosiddette spese pazze la posizione che ha sempre, anche quando era il governo dell'amministrazione regionale, mantenuto, si legge in una nota del Partito Democratico. La Giunta Burlando, infatti, al contrario di quanto ha appena fatto la maggioranza guidata da Totti, non ha alcun dubbio nello costituirsi parte civile, anche contro i consiglieri che facevano parte della stessa coalizione, assumendosi pertanto le proprie responsabilità fino in fondo. Per contro, l'attuale maggioranza del centrodestra ha sottolineato il diverso atteggiamento avuto dal PD con Raffaella Paita in merito alla costituzione in giudizio della Regione per il processo sull'alluvione. Una vicenda completamente differente e non assimilabile anche dal punto di vista legale all'inchiesta sulle spese pazze, ha però risposto il PD. Intanto sulle spese pazze è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle. Tutto secondo Copione, dicono i pentastellati, la vecchia politica non perde occasione per chiudersi a guscio su se stessa, evitando di costituirsi come parte offesa e rinunciando a soldi che sono, a tutti gli effetti, dei cittadini liguri. Ancora una volta la casta protegge se stessa da scandali e inchieste, proseguono i portavoce regionali del Movimento 5 Stelle, lavando i panni sporchi dentro i palazzi e negando quel diritto di tutela e di trasparenza dovuto ai cittadini che la Regione rappresenta. Grave incidente stradale ieri sera in via Padre Semeria a Sanremo, un 45enne, dopo aver perso il controllo della sua vettura, è finito fuoristrada schiantandosi contro un tubo dell'acqua che a causa dell'impatto è scoppiato. L'uomo, che è stato trasportato all'ospedale Boria di Sanremo, ha riportato un grave trauma cranico e facciale. Dopo le analisi del sangue richieste dalla Polizia Municipale, è stato riscontrato un tasso alcolico notevolmente superiore alla media e per questo gli è stata ritirata la patente. Cambiamo argomento, questa mattina presso il frantoio Giromela della Camera di Commercio Imperiese è stata tenuta a battesimo l'Oleoteca regionale della Liguria. L'iniziativa, fortemente voluta da Pierluigi Rinaldi, è volta a promuovere e valorizzare l'olio extravergine e il suo territorio di produzione. Vediamo. Pierluigi Rinaldi è il presidente dell'Oleoteca regionale, questa nuova realtà che ha fortemente voluto a Rinaldi e oggi è il giorno del battesimo, allora la festa è riuscita? Io direi di sì, è stata una bellissima partecipazione, in particolare mi ha sorpreso, mi ha gratificato la presenza di tutti quelli che sono i responsabili di territorio, anche nella nostra politica, dalla senatrice Donatella Albano, all'europarlamentare, all'europarlamentare albese, insomma alla vicepresidente della regione e all'assessore dell'agricoltura. È stata veramente una partecipazione completa, piena e spero, anzi mi è sembrato, sono quasi sicuro che abbiano interpretato quello che sarà lo spirito dell'Oleoteca che su questo territorio cercherà di portare veramente cultura, portare turismo, portare iniziative che vadano a vantaggio di tutti gli operatori. Presidente Pasquale, tocca alla nuova Camera di Commercio di Imperia, Savona e Spezia a tenere a battesimo questa oleoteca regionale, un traguardo importante, potremmo dire anche una nuova partenza? Ma più che una nuova partenza è una continuazione di un lavoro fatto da Camera di Commercio Imperia quando ha restaurato questo immobile, questo vecchio frantoio, per farlo diventare un luogo di sviluppo, di promozione della cultura dell'olio, non solo ma anche dei prodotti tipici del territorio. Quindi è una prosecuzione, l'oleoteca nasce oggi e svolgerà un ruolo importantissimo, Camera di Commercio continuerà a sostenere l'oleoteca perché qui si concentra, stiamo parlando di Liguria, quindi qui si concentra la potenzialità della nostra produzione olivicola e olearia e soprattutto la possibilità di farlo conoscere a tante persone, anche al di fuori del nostro territorio e ragionare sul potenziamento e sulla valorizzazione completa di quella grandissima filiera che va dal proprietario dei terreni degli olivi fino agli assaggiatori che è uno dei grandi patrimoni economici e culturali della nostra terra. Presidente Lupi, l'Associazione Nazionale Città dell'Olio ha creduto subito, in questa oleoteca vi siete parte attiva, siete soci dell'oleoteca, come mai questa scelta? Noi abbiamo voluto essere soci dell'oleoteca regionale in rappresentanza del coordinamento regionale Città dell'Olio e della Liguria, siamo 40 soci in Liguria e vi è un nesso logico tra i nostri soci che sono i comuni, le tre camere di commercio e oggi delle riviere, perché per statuto può essere socio solo chi è un'amministrazione in un territorio olivetato, quindi ci devono essere gli alberi delle olive, l'oliva, l'economia della filiera. Allora, l'oleoteca regionale noi la vediamo come una vetrina viva, aperta, che interagisca con tutta la filiera produttiva e che sia, come dire, da stimolo ai consumatori, ai visitatori italiani e esteri, un prodotto di eccellenza per poter attrarre, ripeto, tutti coloro che si interessano dell'extravergine e quindi è un'occasione inscindibile. Noi mettiamo a disposizione il know-how che tutti i comuni hanno, la sinergia con lo stesso territorio, con i loro amministratori e oggi si parte, ecco, questo mi sembra importante. La presenza di altissimi rappresentanti del Parlamento europeo, nazionale e della regione Liguria danno una testimonianza del valore dell'eoteca regionale. Ci impegneremo tutti affinché ci sia il risultato ottenuto. È tutto per il TG Flash, grazie per la cortese attenzione, l'informazione torna questa sera. Arrivederci. Grazie a tutti.